Innanzitutto sì, il momento più difficile, però forse anche il momento più bello, perché anche solamente essere una cornice come questa, devo dire che è una cosa veramente particolare. Io continuo a dire che le insidi innanzitutto sono a livello mentale, e cioè pensare di dover fare tre, quattro, cinque partite è la cosa che distrugge di solito una squadra. Invece non dobbiamo avere in testa il fatto di fare bene la prima partita, di giocare una buona partita la prima e poi da lì cominciare a ragionare su quella successiva, considerando sempre che nei play-off devi essere pronto a essere sopra, a essere dietro, bisogna essere pronti a tutto. Quindi credo da quel punto di vista lì, sotto questo punto di vista, ci siano le insidie maggiori. L'impianto fa parte un po' di... e anche delle volte è stato un loro punto di forza, però per vincere un campionato, vincere qualcosa di importante, bisogna passare attraverso mille difficoltà. Noi siamo abituati a questo, per cui pensiamo a fare la partita indipendentemente da dove la giochiamo.